Caffè, signora? Ah, quello sì, ah sì. Al caffè non posso proprio rinunciare. Vedi, caro Maggiore, io sono una donna che, all'occorrenza, sa anche adattarsi. Il resto lo avrà notato. A lei, signora, è il raro dono di metterci tutto il nostro agio. Noi, vecchi orsi abbrutiti, sono già tre anni che siamo in trincia. Certo, signor Maggiore. Capisci, tutti ufficiali, sono sempre stati con me. Signora Flora, signora, mi consenta, signora. Scusi, prego. Deve sapere, signora, che lei è la prima vera donna che sia capitata in questo luogo desolato da sempre. Ma certo, è vero. Quando il signor Maggiore annunciò a noi ufficiali che sarebbe arrivata qui fra noi la famosa Flora Torres Bertuccioli, beh, qui non le dico, signora. No, a questo punto dica, mi interessa. Beh, signora, potrei dire che lei qui tra noi ha portato... Una ventata di primavera. Come vera, signora, come vera. Una ventata di primavera, proprio così. Sì, sì, sì.